Passo! Ellie! Lula! L'ho fatto! Poco Yo! Guardate, sono Poco Yo e Lula! Ciao, Poco Yo! Ciao! Ciao anche a te, Lula! Ve la state proprio spassando voi due, eh? Lula! Fermati! Pallina! Oh! 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 Cos'hai trovato? Un cagnolino! Sì, è un cane giocattolo! Che cosa ha sulla schiena? Bambini, sapete dire a Poco Yo cos'ha il cane sulla schiena? Una chiave! Una chiave! Una chiave! Esatto! Una chiave! Deve essere un giocattolo a molla! Bravo, Poco Yo! Ottima idea! Girare la chiave! Continua così! Ci siamo! Ora metti il cane per terra! Questa è tutta la terra! Questa è tutta la terra! Ah, guarda! Beh! 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 oh abbaia pure non è ingegnoso oh cagnolino credo che lula voglia giocare poco io forse devi caricarlo è proprio un bel numero vero? oh guarda anche lula ha deciso di esibirsi per te poco io lula anche il tuo numero è geniale oh non te la prendere lula poco io temo che qualcuno sia triste voi bambini sapete indicare a poco io chi è triste? lula è triste povero lula beh mentre tu è ripreso dal tuo nuovo giocattolo credo che lei si sia sentita esclusa lula 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 giocare ecco così va meglio wow non preoccuparti lula poco io vuole molto più bene a te che al suo cucciolo giocattolo ah sembrano proprio divertirsi a volte basta prestare attenzione ai cuccioli e alle persone intorno a voi perché tutti si divertano evviva poco io evviva lula ciao ciao e arrivederci a presto ciao 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 Grazie a tutti